Amici di Milan.soccer, siamo sempre qui, siamo nella nostra redazione, è come se il tempo si fosse fermato, come in una bolla, però dobbiamo andare avanti e dobbiamo ripartire dal dopo partita, perché il dopo partita ieri è successo qualcosa di importante. Ora ne parleremo in maniera approfondita e prima vi chiedo, come sempre, un piccolo sforzo per sostenere un canale, soprattutto in questo momento, un like, un pollicione a questo video e poi ancora vi chiedo, se è possibile, l'iscrizione al canale, insomma, dateci voce in modo da poter andare a dirglielo a quelli, a quelli, a quegli altri, a tutti quelli che nel mondo Milan si riempiono la bocca di Milan, ma in realtà non gliene importa assolutamente nulla. Beh, che cosa è successo ieri? Partiamo da dove vogliamo partire? Intanto partiamo dai tifosi, perché insomma lo stile Milan si è visto anche sugli spalti, un gran tifo come sempre, poi abbiamo lasciato lo spazio a chi giustamente voleva festeggiare senza che accadesse nulla di trascendentale. Questa è una parentesi a cui tengo particolarmente. Poi ci sfoghiamo sui canali YouTube, ci sfoghiamo nei vari siti dove si può tranquillamente parlare, si può tranquillamente tirar fuori quello che si ha dentro. Purtroppo però questa nostra vehemenza è nostra, non è plurale maestatis, ma la mia, quella vostra, avete commentato non so quanti commenti sono arrivati e vi ringrazio ancora per questo. Ma la vehemenza purtroppo non si è vista a fine partita invece in chi doveva essere vista. Ma partiamo dal video di questa mattina perché si sta parlando addirittura di un licenziamento, perché Gerry Cardinale vuole dare un segnale forte, io spero che lo faccia, ma le parole poi, ed ecco quello che accade dopo la fine della partita, le parole di Pioli sono imbarazzanti. Come sempre non è successo nulla, anzi vi faccio alcuni esempi. Lui dice dobbiamo finire bene la stagione e dobbiamo pensare alla Juventus, questo è stato il suo primo commento. Dobbiamo pensare alla partita di sabato prossimo, dobbiamo difendere un secondo posto a meno 17 dalla prima e sappiamo chi è la prima, quindi personalmente ritengo che non abbia neppure compreso fino in fondo che cosa sia accaduto. E poi alla domanda dopo Roma, tra l'altro la domanda fastidiosa di allenatori, ex allenatori dell'Inter, fastidiosa perché c'è sempre, ma lui non lo capisce, c'è sempre quel pizzico di, come dire, ironia che porta a noi tifosi che amiamo il Milan e non a lei, caro signor Pioli, che probabilmente è vero quello che mi scrivono tutti, il tifoso dell'Inter, dice che ha giocato bene, ha ridisegnato un bel Milan, si è visto a Roma con una difesa a tre, con i due che vanno sulle fasce eccetera eccetera, così come si è visto al derby e lui annuiva dicendo sì è vero, ho schierato delle belle squadre, non si è reso neppure conto che in poche ore è uscito dall'Europa League, dallo scudetto, come dire, matematicamente, ma soprattutto ha perso un derby l'ennesimo. Poi dice dal punto di vista tattico, non sono deluso, dice anche che dovevamo aspettarli per ripartire, purtroppo quello che non avevamo previsto è il primo gollo che ha cambiato un po' tutto, dovevamo difendere più bassi ma la squadra ha lottato, è stata sfortunata, 17 punti di distanza, beh ormai lo sappiamo, sono quattro anni che l'Inter è più forte, quindi inizia questo braccio di ferro, inizia qui a parlare, diciamo male della società, cioè del fatto che lui fa il massimo con quello che gli viene dato e allora se da una parte si sta pensando al licenziamento perché tra l'altro mi raccontano, raccontano ben informati che c'è stata molta freddezza tra Gerry Cardinale e Stefano Pioli. Poi questo è un dato importante perché lui parla del suo futuro come Gerry Cardinale parla del presente. Il suo futuro perché qualcuno dice ma lei pensa che un ciclo che sia, io mi chiedo quale sia il ciclo, adesso non lo so esattamente che cosa intendono i giornalisti che fanno queste domande per ciclo. Il suo ciclo è da intendersi terminato? Perché poi i giornalisti non sanno neppure che domanda fanno, dopo una semifinale di Champions League uno scudetto? Allora delle due una, cioè quando abbiamo vinto lo scudetto e siamo arrivati in semifinale c'era una dirigenza diversa, non so se vi ricordate, c'era una proprietà diversa e lui che è rimasto dopo che sono stati cacciati tutti e ha avallato anche questo tipo di atteggiamento. E dice 14 mesi fa Inzaghi era sulla graticola, era fuori, era già licenziato, ora invece vedete quello che ha fatto. Io qui sto bene, la squadra a margini di miglioramento, però adesso andiamo avanti perché, come dire, non è successo nulla. E allora vedete che tutto quello che abbiamo detto stamattina, tutto quello che sta girando, cioè il fatto che il Milan o meglio Pioli, la società, non si renda conto di nulla perché poi tra l'altro ieri sera la società è scomparsa, non ha parlato nessuno, non ha parlato Gerry Cardinale, non ha parlato Furlani, non ha parlato Ibrahimovic, non ha parlato nessuno. Ed è stato, come sempre, il solito silenzio che ci lascia tra di noi sgomenti, che ci lascia disorientati e soprattutto noi che abbiamo qualcuno che è lì, qualcuno che è là, qualcuno a cui poter telefonare, prendiamo quelle informazioni e cerchiamo di riversarle, ma noi facciamo i tifosi e dunque abbiamo bisogno di qualcuno che ci venga a dire qualcosa. Non può parlare Pioli difendendo se stesso contro la società e poi i rumors, come vi dicevo, ci dicono che si sta parlando, si sta pensando da subito ad un licenziamento. Perché questo non è il modo di affrontare un evento epocale, un evento importante, un evento che ti rimane nella storia. Non può venire l'allenatore del Milan a parlare dei terzini, della difesa, del centrocampo, della difesa 3, del fatto che domenica non ci saranno Teo Hernandez e Calabria. Non può venire a fare questo. Non è una partita persa contro l'Empoli o una partita persa contro la Fiorentina. Non te lo puoi permettere. Non è così che funziona. Cioè quando ci venite a chiedere i soldi però, con tutte quelle belle pubblicità, quando ci chiedete 130 euro per una maglietta, quando ci chiedete cuore rosso nero e 10 euro di qua e 50 euro di là, 20 euro per il parcheggio, quei soldi voi ce li venite a chiedere, ma dovete darci conto di quello che ci fate. Perché non è possibile fare uno spettacolo indegno, quindi noi anche pagando il biglietto vediamo uno spettacolo indegno. Comunque chiudo dicendo che se stamattina i rumors ci dicevano di un licenziamento, in questo momento c'è ancora uno stato d'attesa e anche se i giornali scrivono altro guardiamo ai fatti, noi guardiamo, adesso non parliamo più dei giornali, non parliamo più ha detto questo, ha detto quello, ha smentito questo, l'abbiamo capito e ve l'abbiamo detto più di una volta in questo canale che ci stanno mettendo contro, che stanno sparando minchiate per esaltare l'altra squadra, adesso tutto è finito, adesso si guarda ai fatti concreti, ci sono dei rumors, lui prende le difese e dice male della società e la società dice male di lui, si sta parlando del licenziamento, abbiamo fatto i titoloni anche sui giornali di missioni, licenziato, noi lo diciamo perché amiamo il Milan e sappiamo alcune cose, non spariamo nomi di nuovi allenatori per vendere copie, soprattutto parlo di un giornale tifoso dell'Inter, va bene, ci sentiamo più tardi, speriamo di dare buone notizie, anche se poi adesso chiaramente è vero, qualcuno dirà ieri sera però c'è stato anche Furlani che ha parlato a D'Ason, vedete quello che ha detto Furlani per me è come se lui non ci fosse andato, perché andarci fisicamente, metterci la faccia con quell'atteggiamento un po' di messo, di smesso, con quell'atteggiamento come se nulla fosse accaduto, per me è come non andarci, cioè a me non interessa che tu vada a fare un'intervista, a me quello che interessa è che tu non mi prenda in giro come tifoso, quindi per me la società non ha parlato, parlerà solo quando prenderà le decisioni. Ciao